Il weekend di Ferragosto è finalmente arrivato e sono tanti gli eventi organizzati che animeranno la nostra provincia. I turisti che hanno scelto il territorio ebleo per le vacanze o i residenti che non sono riusciti a partire potranno scegliere tra un calendario ricco di appuntamenti e l'insegna di musica e tradizioni gastronomiche. Anche il meteo dovrebbe essere clemente secondo le ultime previsioni e la pioggia non dovrebbe guastare il fine settimana. Domani all'Auditorium San Vincenzo Ferreri di Ragusa Ibla concerto per due chitarre e soprano a cura della scuola musicale Vincenzo Bellini di Catania e a Ferragoste in piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa omaggio a Pino Daniele con i nota bene live. Sabato 15 in piazza Fara a Punta Secca inoltre in programma una serata musicale contrassegnata dalla tendenza a Roccabilli con il complesso degli strike. A Pozzallo continueranno nel fine settimana gli appuntamenti con la Sagra del Pesce e ancora a Gerratane il 14 agosto la tradizionale Sagra della Cipolla mentre Chiara Montegulfi si aspetterà il 15 di agosto trascorrendo la serata alla Villa Comunale con il Gran Galà di Ferragosto. Anche gli appuntamenti dell'estate a Modicana continueranno nel fine settimana più atteso dell'estate venerdì in piazza Mediterraneo Samarcando Orchestra e Cabaret con Enrico Guarnieri e in piazza Maganucco Sagra della Pizza che continuerà anche sabato. Molto atteso inoltre il concerto dei Tinturia in piazza Mediterranea Marina di Modica il 15 di agosto con la speranza che i 16.500 euro stanziati per l'occasione siano stati ben spesi.